siamo nella casa di leopoldo la nuova casa e c'è anche leo ma che cosa stai facendo facendo una traccia vediamo devo passare questo tubo dell'acqua vediamo un po ma devo scavare un altro po si mi sa che devi tirare un altro po tira vai vai scava scava si si allarga la larga poi se non passa ok si dai penso che può andare